Un mazzo di rose, alcuni lumini e candele, una bottiglia di un profumo afrodisiaco brasiliano, una mela con alcuni chiodi di garofano conficcati all'interno. Un telespettatore si è trovato davanti questa strana cozzaglia di simboli e oggetti nella zona del torrente Vingone e dopo aver ripreso con lo smartphone quanto aveva trovato nel corso di una passeggiata ci ha mandato questo video. Nella zona non visibile dalle immagini ci sarebbero anche alcuni centesimi e anche alcune candele più altre bottiglie. Più che una piccola discarica a cielo aperto, quanto rinvenuto sembrerebbe essere, secondo la chiave interpretativa dello stesso dell'espettatore, una sorta di rituale magico brasiliano, tra magia rossa e magia nera, forse un legamento d'amore realizzato sul posto. Chi se lo ha trovato davanti non ha nascosto una certa inquietudine. C'è da sperare che sia solo un po' di superstizione e che questo ritrovamento, poi sgomberato nel giro di poche ore, non nasconda altri tipi di ritualità organizzata. Grazie. 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 Grazie.